Gattuso in un'intervista disse Pirlo ha la faccia di un angelo ma in realtà è un vero e proprio bastardo. Disse che una volta, mentre si stava allenando, dimenticò il suo telefono sul tavolo dove si erano fermati a pranzare. Pirlo lo prese e gli fece uno scherzo. Decise di scrivere al vicepresidente Galliani un messaggio in cui diceva Se mi dai lo stipendio che voglio, puoi avere mia sorella. Galliani chiamò immediatamente Gattuso, che dovette spiegargli l'accaduto.